Musica Questo bellissimo teatro è un teatro che negli anni ha dato moltissime possibilità Di norma da un po' di anni, lì davanti è ordinatamente composto, si trova un sacco a pelo Ma chi è quel barbone che ha messo un sacco a pelo davanti all'arena del sole? E sapete che cosa fa la mattina presto? Non chiede la carità, legge il giornale e beve un caffè Vivo dentro al container da 4 anni, non ho luce, gas, acqua, riscaldamento, non ho niente Però se non altro ho una mia dimensione Musica Sono stato in strada 3 anni, sono stato 3 anni in stazione e sono 61 a girovagare di notte Che ho chiamato, che trasportavo cadaveri viventi Musica